Ciao ragazze, nuovissimo video, oggi sono qui sul mio divano comoda comoda e ho deciso che d'ora in poi quando devo fare i video parlati questa sarà la mia postazione perché sono comoda e poi mi dà l'idea di un video chiacchiericcio quindi secondo me è bello vedere una persona che parla così sul divano sempre che sto parlando delle mie amiche e niente, quindi d'ora in poi mi vedrete in questa postazione se devo fare video di questo tipo allora, da come avete già letto dal titolo, questo sarà il video sullo spannolinamento ovvero come ho fatto a togliere via il pannolino a Mattia nell'ultimo vlog che è andato online sul mio canale per chi non l'avesse visto ve lo lascio qui sotto nell'info box e praticamente vi raccontavo, vi aggiornavo o meglio l'andamento sullo spannolinamento di Mattia è passato un po' di tempo da quel video nel senso che quel video l'ho registrato lunedì scorso oggi siamo a martedì, quindi è passata circa una settimana io martedì scorso poi ho avuto la riunione con l'asilo per fare iniziare l'asilo a Mattia per l'inserimento e vi comunico che domani, mercoledì 9 settembre Mattia inizierà ufficialmente la materna sono emozionatissima, sono contentissima non vedo l'ora anche di vedere la sua reazione però comunque di questo ne parleremo domani perché registrerò sicuramente un vlog appunto del primo giorno di asilo di Mattia prima di parlare dello spannolinamento voglio fare una piccola premessa e dirvi di non preoccuparvi se il vostro bambino la vostra bambina non riescono fin da subito a fare la pipì o la cacca nel vasino perché anche io ero disperata quindi io adesso vi racconterò la mia esperienza e magari se appunto volete raccontarmi la vostra esperienza sotto nei commenti fatelo pure perché è un modo anche per confrontarsi e per magari dare consigli ad altre mamme e appunto vi specifico che ogni bambino ha sé ogni bimbo ha i suoi tempi ogni bimbo ha le proprie esigenze e quindi non bisogna costringerlo assolutamente a far nulla perché tanto prima o poi lo fanno da soli in automatico i bambini sono molto intelligenti sono molto più avanti di noi se vogliamo in alcune cose perché apprendono veramente come delle spugne cioè una volta che fanno una cosa poi la fanno sempre e ci mettono veramente pochissimo tempo a imparare una cosa almeno io l'ho visto con Mattia veramente il pannolino glielo ho tolto in due giorni perché ero disperatissima e lui piano piano comunque l'ha tolto da solo si può dire come ha fatto così col ciuccio perché mi ricordo che col ciuccio lui praticamente ce l'aveva sempre giorno e notte a un certo punto dopo pochissime volte comunque che gli dicevo Mattia guarda che il ciuccio cacca il ciuccio tiriamolo via ormai sei grande di qua e di là io mi ricordo una sera che sono andata lì per darglielo per fare la nanna e lui praticamente me l'ha lanciato e mi ha detto no mamma cacca ciuccio e da lì praticamente non l'ha più preso e quindi diciamo che ero tranquilla perché così come ha fatto col ciuccio l'ha fatto appunto col dormire da solo poi nel suo lettino e così l'ha fatto anche per il pannolino quindi è andata benissimo allora vi dico io cosa ho fatto questa primavera verso maggio anche giugno quindi prima dell'estate insomma ho iniziato a dire a Mattia che la pipì e la cacca andavano fatte nel vasino quindi non più nel pannolino ovviamente Mattia all'inizio non è che mi ascoltava mi ignorava totalmente perché comunque era ancora piccino calcolate che Mattia fa i tre anni a novembre quindi andando all'asilo lui di quasi due mesi prima del suo compleanno del suo terzo compleanno diciamo che è un po' più piccolo rispetto magari ad altri bambini che magari hanno compiuto i tre anni non lo so a maggio, a giugno e quindi quei due o tre mesi di differenza ragazze fanno tantissimo però comunque per andare all'asilo e so che molti asilo è così in tanti no però per la maggior parte degli asilo è così non ci vuole il pannolino quindi i bambini devono essere già autonomi e devono essere in grado appunto di fare pipì e cacca faccio così perché mi sembra che questi bambini dovranno crescere così all'improvviso così velocemente io sono del parere che ogni bambino ha i propri tempi quindi non dargli fretta nel fare le cose però gli asili appunto vogliono i bambini che siano autonomi e per questo motivo ho dovuto fare di tutto per togliere via il pannolino a Mattia io ho una mia amica che lavora in un asilo e per esempio da lei finché il bambino non è pronto anche ai 4 anni quindi anche al secondo anno di materna il bambino può rimanere tranquillamente col pannolino anche perché loro hanno un pensiero come ti sto dicendo in questo momento quindi il bambino ha i propri tempi le proprie esigenze e non lo so secondo me è così che andrebbero secondati i bambini quindi non dargli la fretta nel togliere il pannolino anche perché a volte si rischia poi se si sbaglia un passaggio di fare peggio io ho sia il riduttore sia il vasino però se voi ci pensate bene il riduttore è praticamente uguale al water quindi il bambino si dovrebbe abituare di più al riduttore che al vasino perché io l'ho abituato al vasino ma adesso lui che andrà all'asilo non ci sarà il vasino ci saranno i water quelli piccolini per i bambini che assomiglia al water nostro però in miniatura e quindi secondo me andrebbe usato il riduttore non il vasino se potessi tornare indietro lo abituerei sul riduttore però vabbè non è mai troppo tardi magari in questi giorni lo abituerò anche al riduttore dopo averglielo ripetuto più volte quest'estate ne avevo approfittato questa cosa ve l'avevo già anticipata mentre eravamo al lago che comunque avendo un giardinato fuori così ero un po' più propensa nel togliere il pannolino a Mattia in quel periodo cosa è successo che in 15 giorni di ferie praticamente io ho iniziato a lasciarlo senza pannolino e ovviamente i primi giorni Mattia si faceva la pipì addosso per la cacca i primi giorni ritenevo ancora il pannolino e diciamo che sono andata per gradi perché anche se si faceva comunque la pipì addosso ragazzi mai sgridarlo mai farlo sentire in colpa anzi scherzarci su e fargli capire comunque che la pipì non si fa addosso ma appunto che si fa nel vasino e le prime volte ovviamente Mattia l'ho cambiato tipo 850 volte ma cosa normalissima e poi dopo cosa è successo che una sera praticamente mi ha detto che aveva male al pancino io ho provato a farlo sedere sul vasino perché all'inizio Mattia non ne voleva sapere neanche di sedersi poi comunque al lago ci sono altri bambini e l'hanno aiutato tantissimo perché lui vedeva che gli altri bambini si sedevano sul vasino e si sedeva anche lui quindi prendendola un po' come un gioco una sera l'ho fatto sedere perché appunto mi aveva detto che aveva male al pancino si è seduto ed è riuscito a fare un po' di popù tutto esaltato era contentissimo mi ha detto mamma guarda bravo bravo così faceva e da lì ha avuto poi un blocco vi dico un blocco perché poi non si è neanche più voluto sedere non ha fatto più nei pupù pipì solo nel pannolino non aveva voleva sapere più niente poi cosa è successo che si è raffreddato un pochino ha avuto qualche giorno con raffreddore e quindi ho detto posticipiamo perché comunque non era molto in forma era un po' moggio insomma aveva raffreddore senza febbre però non era al 100% quindi ho detto fa niente ormai siamo alla fine dell'estate quello che ha capito ho capito proviamo quando torniamo a casa ci sono tantissimi pensieri su se togli il pannolino basta non devi più rimetterglielo oppure ci sono persone che pensano che il pannolino tipo quella mutandina si possa alternare al vasino io la penso come al secondo punto che ho detto quindi io ho alternato il vasino al pannolino perché secondo me è meglio andare per gradi poi ovviamente questa è la mia esperienza ripeto se poi voi invece avete tirato via il pannolino del tutto al bambino non glielo avete più rimesso va benissimo nel senso ci sono vari pensieri io ho fatto in questo modo ho cercato di alternare un po' il pannolino un po' il vasino così Mattia si è sentito più sicuro e a suo agio e una volta che siamo tornati a casa appunto le prime volte sempre pipì addosso me l'ho fatta anche a terra a casa però quello non è un problema nel senso si asciugava si lavava insomma e le cosine bagnate che aveva addosso e le lavavo quindi ci vuole tantissima pazienza ecco mai perderla perché se no il bambino poi si sente in colpa e dopo averla comunque fatta anche a terra e ovunque praticamente Mattia ogni volta che la faceva diceva no ma ma cosa ho fatto e ci rimaneva male e io gli dicevo sempre Matti non ti preoccupare la prossima volta la provi a fare nel vasino non ti preoccupare amore però il pannolino non dobbiamo più metterlo perché tra un po' andrà all'asilo così facendo ripetendoglielo magari giorno dopo giorno anche abbastanza insistente sempre ovviamente con toni dolci mai con toni da arrabbiata perché tanto non serve a niente Mattia a un certo punto si è seduto sul vasino e ha fatto la pipì per la prima volta e era contentissimo infatti abbiamo festeggiato abbiamo ballato era tutto eccitato di questa cosa nuova che era riuscita a fare e abbiamo anche trovato un gioco abbiamo fatto il gioco dei colori quindi gli continuavo a dire Mattia di che colore è la pipì è lui gialla e la cacca marrone quindi insomma l'abbiamo messa anche un po' sul gioco ragazzi gli importanti veramente io scusate se ve lo ripeto però ho visto tantissime mamme anche sgridare i bambini perché magari se facevano la pipì la cacca d'osso è bruttissimo la cosa importantissima è non costringere i bambini non ricattarli se fai la pipì ti do il cioccolato se fai la cacca ti do questo no sbagliatissimo e tanto i bambini ci arrivano comunque ed è una cosa veramente importantissima rispettarli e rispettare i loro tempi esplorare sbagliare quindi assolutamente assecondarli in tutto e per tutto soprattutto su questo momento molto delicato per loro di crescita e veramente è stato uno dei periodi più più delicati e più impegnativi da quando è nata Mattia e anche veramente non pensavo che era un periodo così importante e anche stressante per noi mamme però un momento anche bellissimo perché vedete proprio il vostro bambino crescere è un passaggio proprio di crescita fondamentale ed è una cosa veramente impagabile perché è grazie a voi comunque che sta riuscendo a raggiungere piccole tappe quindi Mattia praticamente ha conginato a fare la pipì nel vasino questo l'ha fatto per due giorni interi quindi per due giorni interi lui ha fatto la pipì nel vasino di notte comunque mettevo lo stesso il pannolino perché va bene tutto però non è che si può passare da tenere il pannolino giorno e notte a togliere via il pannolino giorno e notte anche perché io pensavo sicuramente mattia di notte la farà addosso così è stato per i primi due giorni la terza notte invece io e Roberto abbiamo dormito tipo un'ora perché Mattia continuava a girarsi a rigirarsi nel letto non capivamo che cosa avesse perché era molto agitato allora lui era andato a dormire perché è successo la domenica notte lui è andato a dormire si è addormentato in macchina che erano tipo le 9 meno un quarto che stavamo tornando dal lago l'ultima pipì l'aveva fatta alle 8 di sera una volta tornata a casa lui ha continuato a dormire le aveva andato il latte e insomma questo per dirvi che di notte era agitatissimo io così per scrupolo ho toccato il pannolino la mattina era asciutto però ho detto vabbè la farà non è la prima volta che mi capitava di sentire a mattina il pannolino di notte asciutto poi magari la mattina lo trovavo pienissimo dopo un'ora che continuava a girarsi e a rigirarsi gli ho ricontrato il pannolino si è svegliato e mi ha detto mamma voglio venire vicino a te e gli ho detto amore ma devi fare la pipì e mi ha detto sì mamma tanta pipì lui praticamente continuava ad agitarsi perché aveva lo stimolo della pipì e infatti l'ho messo sul vasino di notte mi ricordo le 4 di notte più o meno l'ho messo sul vasino e si è liberato dopo ha dormito praticamente quindi lui adesso sarebbe pronto per la notte perché lui da domenica adesso è martedì sono già comunque domenica notte lunedì notte e sono già praticamente due notti piene che lui ha il pannolino asciutto quindi io praticamente sono tranquilla perché anche se dovesse stare senza pannolino di notte lui la pipì nel letto non la fa però comunque voglio tenerglielo ancora magari qualche qualche notte così e quindi tutto questo ragazzi è veramente in due giorni perché ha iniziato bene sabato domenica praticamente era già autonomo questo per quanto riguarda la pipì la cacca manca nel senso che lui ha avuto un blocco era riuscito a farla quella volta lì che vi ho detto quest'estate nel vasino poi ha avuto il blocco ma siccome Mattia è anche abbastanza stitico e infatti io gli do ogni giorno una polvere che mi ha dato la pediatra il gasoenterologo da quando è piccolo da prendere appunto ogni giorno quindi onde evitare che Mattia si blocca perché poi succede un casotto evitiamo il pannolino per quanto riguarda la cacca glielo sto ancora attenendo alternandolo ovviamente al vasino faccio praticamente la stessa cosa che ho fatto per la pipì lo sto facendo anche per la cacca perché comunque più o meno parlando con diverse mamme ho sentito e mi hanno raccontato che per la cacca ci vuole un po' più di tempo però ecco non mi arrendo non mi abbatto ho sempre tanta pazienza e farò la stessa cosa appunto come ho fatto per la pipì farò anche per la cacca uguale identica nello stesso modo per esempio Mattia non mi faceva la cacca da venerdì siccome siamo a martedì e sono già passati troppi giorni e lui comunque continuava a mangiare quindi il cibo si depositava nell'intestino mi era venuto un attimino di paura pur dandogli la polvere che prende lui appunto per andare in bagno se la tratteneva e questa cosa mi stava un attimino mandando un po' in ansia vi dico la verità perché vi ho già detto lui è stintico e avevo paura che gli venisse un blocco intestinale praticamente Mattia stamattina mi ha chiesto mamma cacca nel pannolino e gli ho detto amore mio se questa cosa ti fa stare tranquillo falla pure nel pannolino poi pian piano lo faremo anche nel vasino anche questa meno male meno male che Mattia mi ha dato ascolto e l'ha fatta tranquillamente nel pannolino perché per lui era diventato come ormai non si fa più niente nel pannolino ma solo nel vasino però secondo me anche qui bisogna andare a step quindi sono tranquillissima perché prima o poi Mattia farà anche tutto nel vasino compresa la cacca e niente quindi questa è stata la mia esperienza è stato ripeto il momento più delicato in assoluto da quando Mattia è nato ce ne saranno altri ce ne sono stati altri però questo però è stato veramente un grande passo il primo grande passo secondo me della sua crescita che ha segnato una tappa quindi come ha segnato il parlare il camminare anche il fatto di togliere il pannolino è una grandissima soddisfazione è una grandissima tappa sono veramente contenta di di questo e solo che mamma mi può capire solo chi ci è passato può capirmi e io mi emoziono sempre ragazzi non ci posso fare niente però è veramente una cosa impagabile una cosa veramente impagabile quindi ragazzi se voi vi fa piacere raccontatemi la vostra esperienza lasciandomi un commento qui sotto io vi mando un bacione grandissimo ci vediamo la prossima volta in un nuovo video ciao ciao